ragazzi io muoio qui porca troia io muoio qui primo tempo dove non facciamo un cazzo se non aggiungere giocatori nell'infermeria perché si è rotto se le makers è uscita in barella a calabria si è rotta pure mia zia e mia mamma porca puttana e per 70 minuti non succede un cazzo c'è tante occasioni si ma non succede praticamente un cazzo due occasioni nitide ce le ha l'Empoli con Bairami appena entrato che ci ringrazia ragazzi è successo tutto nell'ultimo quarto d'ora che cazzo abbiamo visto cioè allora Tonali che fa la rimessa laterale e giustamente raggiungo si lamenta Zanetti che verrà munito perché la rimessa laterale è stata battuta più avanti io ero così teso che ho detto ma è fuori gioco di Leao e poi ho pensato no sono deficiente perché il fuori gioco nella rimessa laterale non c'è Leao la serve a Rebiccio appena entrato segna easy easy e dopo vabbè dopo non succede più nulla abbiamo qualche occasione così poi però arriva una punizione dico ah no Dioca scusate la bestemmia perfetto ora mi demonetizza il video perfetto me lo cancello me lo buttano giù vabbè Bairami Bairami che ha avuto due occasioni ma non ha segnato Bairami che fa goce punizione mancava un minuto e mezzo ho detto porco e vabbè il nostro creatore Gesù Cristo il padre è finita ce lo pigliamo nel culo arriva l'uno a uno così va a fanculo no azione dopo kick off glitch di FIFA 23 ha segnato Fodeballo Touret Fodeballo Touret il primo gol in Italia 1 a 2 al Castellani chiedete scusa a Fodeballo Touret io in primis Fodeballo Touret non ti sposti più da Milano tu porca puttana porca puttana come se non bastasse contropiede Leao accelerata al 96esimo quello che era scavettino e via 1 a 3 così c'è uno che va a vedere questo dato dice vabbè partita facile per Milano un cazzo per 75 minuti era 0 a 0 avevamo fatto 3 tiri in porto a noi 4 l'Empoli porca puttana è finita 1 a 3 non ho parole grandi grandi cazzo mi sto distruggendo una coscia ragazzi ma cosa il cazzo è successo Fodeballo Touret ha segnato non dico altro basterebbe dire questo chiudere il video e dirvi mettete mi piace ha segnato Fodeballo Touret merita un mi piace questo video cazzo merita e dico amalo pazzo Milano amalo ragazzi iscrivetevi al canale mettete mi piace e ci vediamo al prossimo video ciao a tutti sto morendo ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti